Non ho bisogno di dare motivazione ai giocatori, più che mai stavolta tutti ce li devono avere, chi più chi meno, ma no, chi meno non esiste, è una partita, io è da quest'estate che sento parlare di questa gara, quindi credo che sia la partita. È chiaro che in termini di classifica vale come le altre, che le difficoltà saranno uguali alle altre partite, né più né meno, quindi è una partita difficile come tutte le partite. È chiaro che il contesto è completamente diverso, quindi il contesto è di un derby dove ci sono delle tifoserie che aspettano da tanto tempo questa partita e tutte queste componenti qua è chiaro che ci devono dare uno stimolo in più a fare qualcosa di meglio, a fare qualcosa di più. Detto questo poi, ripeto, non amo sentirmi dire che bisogna lottare, bisogna tirar fuori i coglioni, bisogna fare... La mia squadra lotta sempre, anche quando perde.